Sono le ore quelle passate dal momento del discorso di mezzanotte di Matteo Renzi di un ritorno al politichese, un linguaggio che negli ultimi tre anni almeno sembrava ricoperto dalla polvere del disuso ed è invece tornato ad essere centrale nel momento della crisi. Governo di non sfiducia, una formula che riporta le lancette indietro di decenni e che riecheggia le larghe intese, le convergenze parallele e via cantando. Fatto è che i riflettori della politica sono puntati sul colle e nel PD la frenata imposta da Renzi, segretario, ha raffreddato anche i bollenti spiriti che si erano accesi in periferia. Tutto passa dalla soluzione della crisi e da quando si deciderà di tornare alle urne. In casa Partito Democratico il congresso è in programma a marzo ma con elezioni anticipate a prima di quella data tutto verrebbe azzerato. Una fetta consistente del partito anche a livello locale attende di fare la conta, per alcuni la resa dei conti, proprio all'inizio della primavera. E in assenza delle dimissioni della segretaria, chieste a voce per ora singola dal deputato Danilo Leva, Micaela Fanelli continuerà a restare alla guida del PD regionale. Il parlamentare di Fornelli l'ha messa ormai nel mirino e dopo la batosta delle amministrative, la seconda elezione persa in malo modo dal PD anche in Molise, ha fornito la seconda occasione per chiedere il conto. Uno schianto fragoroso, lo ha definito Leva, che rivela quanto i cittadini siano per niente contenti del governo Renzi e di quello frattura. Dopo la liturgia delle consultazioni al Quirinale, con annessi orpelli da Prima Repubblica, la strada del congresso e della conta interna del Partito Democratico sarà il secondo snodo. Leva fuori dal paramento ha già gonfiato il petto, ancora con il tasto pausa premuto il senatore Roberto Ruta. È da questo binomio, con la variante della deputata Laura Venitelli, che il PD locale potrebbe reindirizzare il timone della rotta. E se quando le elezioni si vincono e il carro si affolla, è facile da immaginare che dietro l'armata renziana di governo le truppe si conteranno sulle dita.